Musica Amici di Atisport 24 bentornati, nuova puntata di 2 metri la pallannuoto vista da vicino ed è un immenso piacere ritrovare insieme a noi uno dei tecnici più vincenti della pallannuoto italiana femminile è stata anche selezionatrice della nazionale che ha vinto l'argento alle universiadi del 2019 è una leggenda di questo sport, do il bentornato a Martina Miceli, ciao Martina Ciao, buonasera a tutti Martina, si sta chiudendo il 2022, è un po' tempo di bilanci, parliamo di Orizzonte Catania con te ti chiedo, parto dalla fine, quanto pesa nel percorso di crescita di questa squadra? la vittoria ottenuta nel girone del secondo turno di Champions League pesa nel senso che è stata un bellissimo esplosione, una bellissima prestazione un finire questo anno che comunque ci ha visto protagonisti a tutti i livelli con questa bella prestazione autoritaria, convincente, è stata sicuramente molto importante e si rivederà importante per il resto della stagione come ho detto nelle interviste post partita, sono però molto arrabbiata nel senso che non posso pensare che le mie atlete, sono orgogliosa del fatto che le mie atlete in partite così importanti tirino fuori sempre gli attributi ma per fare il salto di qualità dobbiamo essere così intense sempre anche in allenamento e anche nelle partite dove non è dentro e fuori e allora me la servi su un piatto d'argento ti chiedo, le tue parole del post partita sono ormai note con la tua virgolette solenne arrabbiatura perché il meglio è arrivato solo nel match da dentro fuori con il Padova la curiosità che sorge invece è questa cosa hai detto alle tue ragazze prima di uscire sul piano vasco? eh ma insomma quello che ci puoi svelare no nel senso che poi è sempre un cammino molto intenso per arrivare a farle stare così tese positivamente sempre un cammino intenso, tanti dettagli molto personale, individuale l'una con le altre perché non tutte sono uguali però è sempre anche molto lacerante sia per me che per loro perché non è assolutamente facile e per questo mi arrabbio perché non dobbiamo sempre per forza arrivare a a strapparci i vestiti per fare una prestazione così importante ogni volta secondo me abbiamo nelle corde anche qualcosa in più anche fare il salto di qualità avere questa intensità anche ogni giorno in allenamento secondo me certo l'allenamento della tenuta mentale è comunque una componente fondamentale per arrivare in alto e chi più di Martina Miceli può insegnare questo alle sue giocatrici ai quarti vi attende ora il doppio confronto con la formazione del Glifada che sfida sarà? che formazione è quella greca? ma in questo momento comunque le squadre greche si rivelano comunque un cliente ostico per tutti cioè la pallanuoto greca un po' come quella spagnola ha allargato la base e quindi il livello si è alzato un po' a tutte le squadre poi l'anno scorso c'era l'Etnikos che aveva una signora squadra il Vuliagmeni quest'anno comunque è una signora squadra nonostante sia andata a Roma con tre titolari in meno un po' gli è successo quello che era successo a noi l'anno scorso in Coppa Campioni per cui si è alzato il livello ha delle ottime giocatrici comunque sarà una partita importante sarà difficile giocare lì ci attende un bel mese di preparazione a questa partita ma ci faremo trovare pronte sicuramente è inutile nasconderci fra le tre seconde che potevamo incontrare sicuramente ci avrei messo la firma per cui quello che abbiamo detto appena c'è stato il sorteggio sicuramente ora dipende tutto da noi abbiamo il nostro destino nelle nostre mani anche perché la butto lì penso che nonostante poi la Fissa abbia preso il Sabadell che è un avversario difficilissimo per voi due un quarto di finale Matarò-Olimpiakos è tutto oro colato perché due di loro una si farà assolutamente sì no no assolutamente intanto dobbiamo passare intanto dobbiamo passare per cui dobbiamo poi si vedrà però intanto sicuramente no fra Olimpiakos Sabadell e Glifada è inutile nasconderci tutti avrebbero scelto il Glifada per cui comunque siamo stati abbiamo avuto un sorteggio facile poi di facile non c'è niente sono le prime otto più forti in Europa bisogna farlo diventare facile assolutamente però è giusto sapere siamo consapevoli che il nostro futuro in Europa in questo momento dipende da noi sicuramente possiamo battere il Glifada per cui entriamo in acqua con la consapevolezza che possiamo farlo io ti faccio tornare con la mente indietro di qualche mese Scudetto vinto per il secondo anno di fila contro l'antenore plebiscito Padova qual è il ricordo più bello che ti lega alla vittoria dello scorso campionato? ma innanzitutto mi lega l'anno passato è stato un anno molto molto particolare abbiamo finito un ciclo tutti ci avevano dato anche te come terza incomoda io assolutamente sentivo le interviste e le riportavo alle ragazze ogni volta che mi ricordo un'intervista di Enni dove tu gli hai chiesto ma vi inserirete come terza incomoda e io le ho spronate molto su questo le ho detto avete visto? sono stato un motivatore assolutamente sì tu come tutti gli altri assolutamente ma io ti assicuro che noi già dalla prima Coppa Italia che abbiamo fatto si vedeva proprio avevano una fame un piacere di giocare insieme si sapeva sapevamo che avremmo fatto grandi cose poi purtroppo siamo stati molto sfortunati durante l'anno il covid sia in Coppa Campioni sia in Coppa Italia e nonostante questo abbiamo ben figurato sia in Coppa Campioni sia in Coppa Italia per cui eravamo ancora più affamate ancora più affamate e alla fine è stato veramente un andare quasi a raccogliere i frutti che avevamo già seminato durante l'anno è stato veramente un anno esaltante l'anno scorso anche se io penso che quelle due esperienze sfortunate nelle due coppe siano state due tappe di crescita fondamentali che vi hanno poi permesso nel momento clou della stagione di andare letteralmente a sbranare sportivamente parlando gli avversari ma sì crescita per chi c'era cioè nel senso che poi in Coppa Campioni per esempio Morena non c'era o anche Veronica Gant non c'era per cui hanno avuto una crescita a blocchi un blocco non hanno avuto la possibilità di crescere così come avrebbero dovuto no? per cui anche quello è stato però devo dire che poi nel momento importante si sono fatti trovare pronte per cui veramente è stato un anno molto molto esaltante l'anno scorso poi il proseguirlo con le giovanili a questo livello cioè io penso anzi sono certa che nessuna squadra ha mai vinto tre scudetti nel contemporaneamente no? Under i vari Under assolutamente la finale questo se ne è parlato anche poco secondo me perché lo scudetto la prima squadra assolutamente fondamentale importantissimo però secondo me gli scudetti giovanili dall'anno ci arriviamo tra poco ci arriviamo tra poco quando hai capito che il titolo poteva essere a portata di mano? l'anno scorso l'ho detto molte volte già detto prima ma da subito nel senso che ho sempre pensato che non eravamo inferiori alle altre che c'era molto da lavorare sì e che se tutto fosse andato a posto potevamo dire la nostra assolutamente e ti chiedo la caratteristica dell'orizzonte è quella di una quando trova la chimica e rifinisce gli automatismi di gioco è quella di una progressione inesorabile che non conosce i limiti quali sono i segreti di questo di questa accelerazione che poi finisce per sgritolare gli avversari? guarda non è assoluto nessuno ha la bacchetta magica nessuno io di questa cosa mi arrabbio perché può essere sempre una una lama a doppio taglio nel senso che cresce nella consapevolezza dell'atleta che dice vabbè ma tanto poi quando conta vinco non è assolutamente così tu devi vincere tutti i giorni devi vincere tutti i giorni in allenamento e non non è così facile anche perché non è così scontato io sono certa nel credo nel nel lavoro che uno fa per cui sono convinta che a maggio saranno le mie atlete saranno più brave di come sono ora questo lo so per certo però non puoi dare per scontato che sarai più brava degli altri perché anche gli altri lavorano e lavorano altrettanto bene per cui non è così certo che tu poi alla fine sarai più forte degli altri assolutamente perché anche gli altri lavorano lavorano bene e anche gli altri saranno più bravi assolutamente per cui questa cosa di dire sì poi alla fine l'orizzonte arriva non è così scontato nessuno ha la bacchetta magica e assolutamente non non è una cosa che mi piace però purtroppo è la realtà sono due anni che alla fine non c'è nessuno in grado di riuscire a risultare guarda due anni fa secondo me due anni fa secondo me noi eravamo più forti e abbiamo vinto per episodi perché poi su cinque partite quattro rigori ma secondo me non abbiamo assolutamente giocato bene cioè è stato difficile farle arrivare è stato un anno difficilissimo perché erano tutte a fine carriera tutte con la paura di chiudere con una delusione l'ennesima delusione dopo la non qualificazione per cui è stato un anno difficilissimo quello veramente veramente difficile e assolutamente cioè secondo me non abbiamo neanche giocato bene onore al Padova che secondo me ha dato di più di quello che aveva ma secondo me noi sulla carta quell'anno eravamo più forti ma non abbiamo mai espresso il nostro gioco quando lo abbiamo espresso infatti siamo andati avanti di quattro di cinque per poi farci prendere la paura e farci recuperare certo chiudiamo con un'ultima battuta hai accennato prima al fondamentale discorso delle giovanili che sono un serbatoio per la crescita dei cicli vincenti dell'equipo orizzonte davvero formidabile traccia tu non esprimo io giudizi perché credo che i fatti siano come le hai descritti tu prima talmente evidenti che non c'è bisogno di parole superiore però traccia tu il bilancio dell'eccellente lavoro che è stato svolto ma guarda io sono una cosa è un aspetto del quale sono veramente tanto orgogliosa perché lavoriamo bene perché perché stiamo lavorando sugli aspetti giusti abbiamo creato un bel clima e questa cosa secondo me è anche poco riconosciuta nel senso che veramente se fosse successo in un altro sport penso avremmo visto titoloni sui giornali penso che che vincere in tutte le categorie in pratica perché poi nell'under 18 abbiamo vinto l'argento per cui tre scudetti più in argento penso che sia una cosa veramente importante e anche non ripetibile nel senso che poi mi piace pensare ogni anno che si alzi l'alticella ma alzarla in questo senso diventa veramente difficilissimo ogni anno però niente cioè mi commuovo quasi nel senso che veramente è una cosa della quale sono veramente orgogliosa va bene e con questo bellissimo sentimento espresso da Martina Miceli chiudiamo la nostra chiacchierata ringrazio Martina per essere intervenuta do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Martina grazie mille ciao grazie a voi grazie a voi grazie a voi